Sì, dammelo! Delicatamente! Nelle mie storie raccontavo di questo vaso. Non è quello in cui ti hanno intrappolato Oto e De Fialte? Non mi hanno intrappolato! Io ci sono caduto! Ci sono caduto dentro! Ma questo non c'entra nulla. Ho nascosto una cosa importante lì dentro. Qualcosa che può recuperare solo qualcuno delle tue dimensioni. Vai! Che cosa hai nascosto? Stammi a sentire, chiaro? Questa è un'emergenza. Ti ricordi quando ti ho detto che le mie figlie e le amazzoni non mi parlano? Beh, tempo fa ho preso in prestito la cintura di Afrodite per insomma approvarla, niente di che. Non sapevo che sarei finito intrappolato dentro quel vaso. Ho perso la cintura! Non sono riuscito a tornare là dentro e recuperarla. E questo che cosa c'entra con le amazzoni? Avevo regalato la cintura a Ippolita, la loro regina. Quindi insomma poi l'ho presa in prestito e l'ho usata come diversivo per non far notare ad Afrodite che la sua era scomparsa. Un momento. Quindi ora vuoi che io vada là dentro così le tue figlie torneranno a rivolgerti la parola? Più che altro non voglio che Afrodite scopra che la sua cintura può lanciare frecce di fuoco, comunque sì. Va bene. Grazie Fenix. Solo tu puoi salvarmi. Ora però muoviti. Grazie Fenix. 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 Grazie.